come? Ecco a voi la supersonica Isabella, lei ha un carattere molto frizzante, è molto sicura di sé, affettuosissima come l'accarezzi non smetterebbe più di farsi fare le coccole, al guinzaglio se ci sono cose interessanti tira leggermente ma è molto gestibile in esterno non ama particolarmente i gatti, in interno potrebbe imparare a conviverci, simpatica e non ha paura né di uomini né di donne, non ha paura dei rumori forti e quindi davvero molto sicura e equilibrata.